Cosa c'entra l'archeologia con la consulenza? Niente, direte voi, e onestamente la pensavo così anch'io. Poi ho incontrato Francesca Simeoni ed è stata lei a farmi vedere le numerose sovrapposizioni tra questi due mondi apparentemente così lontani. Francesca ha una laurea in archeologia, ha lavorato nelle gallerie d'arte di Parigi e nei musei di Milano, eppure oggi è una consulente di BIP Italia. Ecco, cosa c'entra l'archeologia con la consulenza sarà lei a raccontarcelo in questa puntata dedicata alla contaminazione di competenze. Questo è Caffè Macchiato, un podcast che racconta le storie degli uomini e delle donne d'azienda, storie incredibili di chi ha osato per inseguire un sogno, un valore o una passione, perché proprio dalle storie di ognuno di noi nasce la forza di una grande azienda. E il caffè lo prenderemo rigorosamente macchiato, sfizioso, da assaporare con lentezza, concedendoci il tempo di guardare bene dentro le storie degli altri per ritrovarci un pezzetto di noi stessi. Il nostro caffè oggi lo beviamo con Francesca. Benvenuta Francesca e partiamo dal tuo ruolo. Di cosa ti occupi? Buongiorno, grazie. In BIP mi occupo al momento di re-ingegnerizzazione di processi per un'azienda che trasporta gas. Ci vuoi raccontare un po' meglio cosa fai concretamente? Ok, sì, effettivamente. Allora, diciamo che mi sveglio la mattina e parlo con i miei clienti, che si occupano di manutenzione di questo tubo molto lungo che trasporta gas per chilometri e cerchiamo insieme di mettere giù e migliorare sempre di più il loro processo di manutenzione di questo tubo. Tu però non sei laureata in economia o in ingegneria. La tua è una storia un po' particolare. Allora direi, se sei d'accordo, di fare qualche passo indietro e di raccontarla dall'inizio. Va bene. Sì, io sono laureata in archeologia, però prima ancora ho fatto il liceo classico e durante il liceo, ma in realtà anche prima, da quando ero abbastanza piccola, avevo la passione, avevo ancora, la passione per il teatro greco. Non so se sai che a Siracusa c'è un festival ogni anno durante l'estate, e se non lo sai te lo consiglio, di teatro greco. Quindi vengono messe in scena ogni anno commedie e tragedie, di solito del V secolo a.C. Sono sempre andata a Siracusa con mio papà e la mia famiglia, fin da quando ero piccola, e quando ho fatto il liceo il mio sogno era tradurre le tragedie per il teatro. Quindi ho deciso di scrivermi a lettere classiche e di studiare greco. Infatti la mia tesi triennale l'ho fatta sulla commedia. Mamma mia, per me è incredibile che tu sia arrivata a fare la consulente da questo percorso qui. Dopo aver studiato lettere però hai cambiato un po', come direi, hai aggiustato il tiro? Sì, sono stata in Erasmus in Germania e lì mi sono reso conto che mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di più pratico. E quindi ho deciso di scrivermi a archeologia, anche perché durante l'estate, tra la triennale e la magistrale, ho lavorato come volontaria in un museo a Milano, il Museo Pol di Pezzoli, e mi sono appassionata tantissimo alla museologia. E quindi ho detto, magari con l'archeologia riuscirò a lavorare in questo museo o in qualche altro museo. La scelta di studiare archeologia nasce dal tuo bisogno di praticità. E questa praticità, come dire, in qualche modo fa parte di te, del tuo modo di essere. Sì, sono sempre stata, diciamo, una mente matematica, ma in generale una persona molto organizzata e molto pratica. E pensa, per esempio, che di solito ordino i miei maglioni nell'armadio in ordine di colore. Questo dice molto di te. E tra l'altro, questo approccio, no? Questo essere molto pratica, in qualche modo, ritorna anche in quello che fai oggi. Cioè, è una sorta di specularità, no? Sì, sì, è un lavoro in cui l'organizzazione e gli aspetti pratici sono fondamentali. Cosa è successo dopo la laurea in archeologia? Insomma, se tu oggi sei qui, deve essere successo qualcosa? Sì, in realtà è successo un pochino prima. Nel senso che ho fatto il mio secondo anno di archeologia a Parigi. E nel frattempo lavoravo a tempo pieno in una galleria d'arte contemporanea. Quindi già un po' avevo aggiustato il tiro rispetto al museo italiano. E poi c'è stato il Covid. Insomma, lo sappiamo tutti cosa è successo. E per te cos'è successo? Per me ho perso il lavoro e sono tornata in Italia. E sono tornata a casa dei miei genitori dopo quasi tre anni che vivevo da sola. E quel periodo non è stato un periodo facile per nessuno di noi. Ma in particolare per te ha segnato un momento di passaggio. Come ti sei sentita? Insomma, vivevi a Parigi. Stavi comunque costruendo una carriera in quel mondo. E poi sei stata catapultata a Milano di nuovo a casa dei tuoi. Insomma, deve essere stato difficile. Sì, è stato molto difficile. E in quel momento mi sentivo persa. Non sapevo cosa avrei fatto. Anche perché all'inizio del 2020 nessuno di noi sapeva quanto sarebbe durata quella situazione. E in un mondo come quello dell'arte, che era completamente fermo, non vedevo nessuna opportunità per me. Ovviamente ho continuato a mandare CV, però nessuno mi ha risposto. Però ti sei data da fare in quei giorni? Sì, sì, mi sono data da fare. Ho cercato di immaginare una carriera alternativa, una vita alternativa. E lì mi hanno aiutato i miei genitori. In particolare mio papà mi ha suggerito che avrei potuto fare consulenza. Senti, posso dire che questo papà in qualche modo è stata una guida? Cioè è stata la persona che ti ha portata al teatro, a Siracusa? Poi ti ha dato questo suggerimento, insomma una persona importante. Sì, sì, senza dubbio. Abbiamo parlato del ruolo di tuo papà in questo percorso. Ma anche tua mamma ha avuto un ruolo? Sì, assolutamente. E infatti quando mi stavo preparando per fare i colloqui in consulenza, che come ho detto sono dei giochi di ruolo, l'altro giocatore era lei, che mi faceva sempre la sera i business case, facendo finta di essere l'intervistatore. Durante quel periodo tu hai anche studiato, comunque hai fatto un master, quindi ti sei tenuta attiva, nonostante comunque la crisi, il covid e tutto il resto. Sì, comunque tornata da Parigi avevo già in mente di prepararmi ed entrare in consulenza, però chiaramente non sapevo se ci sarei riuscita. E quindi nel frattempo, per non stare con le mani in mano, ho anche deciso di fare un master all'ASDA Bucconi. E così è stata la prima volta in cui all'università ho studiato economia. E quando tuo papà ti ha consigliato questo mondo, quello della consulenza, cosa hai pensato? Cioè, ti sei sentita inadeguata o hai pensato che in qualche modo non fosse così lontano dalle tue competenze, dalle tue capacità? Beh, ho pensato che sicuramente avrei dovuto fare del lavoro, perché comunque era un mondo che non conoscevo, un lavoro che non conoscevo e non ho mai studiato economia, non avevo mai studiato economia, però in effetti non era così diverso da quello che avevo fatto fino a quel momento. E me ne sono resa conto soprattutto quando ho iniziato a studiare, e a prepararmi per fare i colloqui in consulenza, perché i colloqui in consulenza sono un po' dei giochi di ruolo e bisogna cercare di risolvere dei problemi. Cosa che non è così difficile da quello che fa l'archeologo, è un'indagine attraverso la quale poi si arriva a delle soluzioni. In che senso questi due mondi sono simili? Beh, diciamo che il lavoro dell'archeologo è un po' mettere insieme i pezzi, quindi quando l'archeologo fa uno scavo raccoglie diversi reperti che poi tutti insieme ci piace pensare, ci aiutino a capire qualcosa delle popolazioni che quei pezzi li hanno lasciati lì. La consulenza non fa nulla di diverso alcuni tipi di consulenza se non altro, perché noi in questo momento quando lavoriamo sul nostro processo parliamo con le diverse persone dell'azienda nostra cliente e cerchiamo di mettere insieme i punti di vista di ognuno per poi costruire un processo unico che permetta a ognuno di lavorare nel modo più facile e più immediato possibile. Insomma, c'è la possibilità di contaminare competenze diverse, di metterle insieme in questo mondo, nel mondo della consulenza? Cioè un po' è quello che hai fatto tu? Sì, a me piace pensare che si possa e che venga fuori anche un risultato apprezzabile. Senti, ma quando hai fatto questa scelta, che di per sé sembra, all'apparenza sembra una scelta non lineare, l'hai raccontato a qualcuno, l'hai detto ai tuoi amici, cioè gli altri che dicevano? Beh, ne ho parlato con la mia famiglia e con un paio di amici molto molto stretti, però in realtà no. E quando ho preso la decisione ho iniziato a studiare per fare i colloqui ed è stato un periodo abbastanza lungo, in realtà no, non ne ho parlato con nessuno. Perché? Ma avevo un po' paura della reazione. Avevo paura che, esatto, questa scelta sarebbe stata vista come non lineare, che sarebbe stata criticata e che i miei amici volessero difendere il loro privilegio di studenti laureati in economia o in generia. Insomma, tu dici, chi fa economia, come dire, è naturale che poi possa diventare consulente. Io ho studiato una materia umanistica, archeologia, quindi perché andare a fare la consulente e ci potevano contestare questo? Sì, come ho spiegato, nella mia testa aveva molto senso, però in quel periodo non avevo tanta voglia di spiegarlo agli altri. Alla fine hai avuto ragione tu perché poi a un certo punto hai iniziato a fare i colloqui e insomma, cosa è successo? Questi colloqui saranno anche andati bene? Sì, ho fatto i colloqui in BIP e ho avuto un'esperienza molto positiva. Infatti la persona che mi ha fatto il colloquio ai tempi, che è un senior manager, mi ha fatto un business case su una galleria d'arte. Che bello! Sì, mi ha molto divertito quel colloquio, è stato piacevole e sono stata anche molto colpita dal fatto che questa persona mi considerasse, avesse letto qualcosa su di me e mi avesse messo alla prova su un terreno che comunque mi era più familiare. Cioè quello che tu dici è questa persona effettivamente ha letto quello che io avevo fatto, quelle che erano le mie competenze, cioè c'è stata un'attenzione alle persone? Sì, l'ha letto e non solo, ha ritenuto che fosse qualcosa che poteva essere in linea con quello che avrei fatto in BIP. Quindi anche lui, come me, forse non vede così tanto uno stacco di carriera tra la galleria d'arte, l'archeologia e la consulenza. Senti Francesca, insomma quel colloquio è andato bene, oggi tu lavori per BIP, lavori in BIP e ti chiedo appunto se sei cresciuta e soprattutto se c'è un valore, qualcosa che pensi di aver portato con il tuo percorso, con la tua storia in BIP. Sì, abbiamo già parlato della contaminazione delle competenze e quindi questo senza dubbio secondo me è molto utile anche confrontandomi con i miei colleghi che hanno un percorso di studi più lineare. Secondo me il mio punto di vista porta del valore. e poi l'altra cosa è essere a mio agio con le persone, l'avere avuto a che fare. Ho fatto due lavori al museo e alla galleria d'arte in cui avevo molto contatto con il pubblico e questo sicuramente mi aiuta nei miei rapporti con il cliente. Io mi sento molto tranquilla quando parlo con i clienti e penso che questo si veda e sia un valore aggiunto. Un'altra cosa che mi hai raccontato, la spoilerò, magari la racconti bene anche tu, è che il fatto di provenire da delle facoltà umanistiche, comunque da una formazione diversa, ti spinge ad essere sempre sull'attenti su chi va là a studiare, no? Sì, sì, certo, io non do per scontato niente, mi chiedo sempre se quando non capisco bene una cosa sia dovuto al fatto che non l'ho studiato o semplicemente non l'ha studiata nessuno. Però, insomma, io ogni volta cerco di portarmi a casa dalla giornata qualcosa che ho imparato e magari andarlo a rivedere, andarlo ad approfondire e questo mi fa stare sempre sull'attenti. Tra l'altro, come dire, tu sei la rappresentante, no? Proprio con la tua storia, di una tendenza che BIP sta cercando di rinforzare, cioè quella di portare dentro il mondo della consulenza anche chi ha una formazione diversa. Sì, sì, ci sono parecchi colleghi in BIP che hanno percorsi un po' diversi dalla norma e, tra l'altro, anche qui non so se lo sai, ma io l'ho scoperto dopo, BIP offre anche un master, un bootcamp di quattro settimane in cui seleziona un certo numero di studenti, di laureati, anzi, in materie umanistiche, che può essere giurisprudenza, lingue, lettere, e cerca di aggiungere alla loro preparazione delle competenze in più che poi faranno il loro comodo una volta entrati in consulenza e dopo il master lo stagio in BIP è già previsto, quindi tutti lo fanno. Francesca, io chiudo questa chiacchierata, questo caffè insieme, facendoti una domanda un po' intima e la domanda è tu adesso come ti senti? Cioè a che livello step sei della tua vita? Cioè sei soddisfatta? Ti piace quello che fai? Sì, in questo momento sono molto contenta, infatti sono anche grata a BIP per avermi ascoltato e dato questa possibilità. Diciamo che mi sento come se tutti i pezzi della mia vita che abbiamo raccontato brevemente fino ad ora si siano finalmente uniti in un puzzle che dal mio punto di vista ha molto senso. E io ringrazio Francesca per averci dimostrato che non esiste un solo percorso per diventare consulenti e per averci fatto esplorare un valore fondamentale come quello della contaminazione delle competenze. Grazie Francesca. Grazie a te, ciao.